Che montare video con canvassi a prova di trascina e sostituisci? L'ho già detto nel precedente episodio. In questo ti mostro quattro effetti wow, quantomeno spero, ma sicuramente sono interessanti, che si possono realizzare in modo molto semplice. Vi ritrovate immaginativi su questo canale dedicato a chi ha idee, storie e progetti da raccontare con le immagini. In video, ma non sa bene da dove iniziare. Iscriviti al canale se vuoi essere dei nostri per ricevere aggiornamenti sui prossimi episodi dedicati a chi vuole girare, montare e pubblicare video sul web, ma non solo. Cambio è una piattaforma nata per creare grafiche, un po' come Photoshop, ma pensata per chi di design e programmi non ne sa molto e non ne vuole imparare. Da qualche tempo supporta anche i video e dà la possibilità di inserire all'interno delle pagine delle immagini in movimento. Nel tutorial precedente ti ho spiegato un po' le basi, come gestire il tuo progetto e creare un modello. In questo tutorial ti mostro invece quattro effetti davvero interessanti che con Canva si creano in modo agevole, sicuramente in modo più facile rispetto ai tradizionali programmi di cui solito parlo, come ad esempio Filmora o anche applicazioni come CapCup o VLLO. Con Canva puoi quindi dividere lo schermo in due, quattro o meglio tre per riadattare i tuoi video verticali al classico formato orizzontale. Per fare ciò basta prendere dalla libreria dei media due, tre, quattro video e trascinarli all'interno della tua pagina di progetto. Inoltre, essendo Canva un programma che viene dalla grafica, diventa molto semplice allineare i vari video, grazie all'allineamento automatico e all'effetto calamita, e comporre un'inquadratura che sia gradevole e ben bilanciata. Inoltre, come già detto nel video precedente, la cosa migliore è che quando tu hai dedicato del tempo per creare una composizione, la puoi riutilizzare quante volte vuoi, è molto semplice riutilizzarla perché basta duplicare il progetto e poi grazie alla funzione trascina e sostituisci diventa veramente veloce riutilizzare uno stesso modello più volte. Puoi incorniciare i tuoi video così, perché questo è solo un effetto grafico. Per fare ciò è sufficiente trascinare una maschera e in automatico la maschera si aggancia e ritaglia il tuo video. Lo stesso effetto si può ricreare con qualsiasi programma di montaggio, ma non è così semplice. Perché? Perché l'utilizzo di maschere è poco diffuso nei programmi di montaggio, quindi occorre sovrapporre un'immagine a un'altra e quindi lavorare di precisione per far sì che le immagini coincidano. Inoltre il grandissimo vantaggio di Canva è che è una libreria strepitosa di elementi grafici già pronti all'uso per essere trascinati sul tuo progetto. Alcuni elementi li sono a disposizione anche nella versione gratuita, altri solo nella versione in abbonamento, ma in ogni caso puoi acquistare anche singoli elementi di cui proprio non puoi fare a meno perché li trovi perfetti per il tuo progetto. Con Canva puoi scarabocchiare sui video, così, e disegnare frecce, cerchi o quello che vuoi sui tuoi video, che torna sempre utile. È un po' quello che siamo abituati a fare anche con il nostro telefonino su Instagram o anche nelle app di video editing, ma con Canva lo puoi fare comodamente seduto sulla tua scrivania, usare il mouse o anche, se sei abituato, la taboletta grafica. Inoltre ci sono delle opzioni in più per rendere il tuo disegno più interessante. Vai nella barra degli strumenti a destra, scorri in fondo, seleziona Draw, come disegnare in inglese. Ogni volta che aprirai l'applicazione troverai nella barra degli strumenti l'icona della funzionalità e a questo punto non ti resta altro che sbizzarrirti con i tuoi disegni. Inserire i grafici animati. Questo è uno dei modelli, ma ce ne sono anche altri. È un'opzione interessante per chi non ha tante immagini da mostrare. Per trovare la funzione basta scorrere nella colonna di destra. Se non la trovi subito, tre puntini e la cerchi. Ci sono diversi modelli di grafico, ne scegli uno e poi vai a inserire i tuoi dati oppure importi direttamente un file CSV che è un formato standard. A questo punto puoi andare a personalizzare i colori con quelli che ti corrispondono e ti rappresentano. Una volta che hai creato il tuo progetto, come ti ho spiegato prima, puoi duplicare il progetto e modificarlo per una volta successiva. Bene, spero che queste funzionalità ti entusiasmino, almeno quanto a me, e nel caso fammelo sapere nei commenti e dimmi se queste funzioni ti sono utili, le conoscevi già, oppure stanno facendo germogliare nella tua testa nuove idee. Il consiglio in più che ho già detto l'altra volta, però preferisco ripeterlo, è che cerca sempre di salvare un modello e ripartire da lì. Questo per evitare di investire tanto tempo nel riprogettare e rifare quello che hai fatto la volta precedente. È sempre più funzionale partire da un modello e personalizzarlo, perché tante scelte si fanno una volta e non le si rifanno più, come ad esempio la scelta di colori e font. Se ti interessano temi quale creare video per il web, puoi iscriverti alla newsletter che invio una volta al mese quasi sempre. Lasciami l'indirizzo qua di fianco e ricevi anche in regalo il modello Canva che ho creato. Puoi personalizzare tutto quello che vuoi, ma parti da una base già fatta e quindi credo sia più facile creare il tuo progetto. Ora non ti resta che mettere in immagine la tua storia per creare la visibilità che meriti.